In questa mappa concettuale ci occupiamo della teoria delle idee e la ripassiamo insieme. Ovviamente non c'è nessuna pretesa di esaustività, è importante approfondire la teoria delle idee perché è molto profonda e soprattutto molto articolata, sicuramente questo ripasso è solo per chi ha già studiato. Partiamo dal presupposto che per Platone ci sono tre periodi, noi in questa mappa concettuale ci focalizziamo sul secondo periodo e nello specifico sulla dottrina delle idee, poi ci sarà invece una mappa concettuale tutta dedicata alla teoria dello Stato. Iniziamo dal presupposto che Platone per Platone la scienza è immutabile, stabile e perfetta e l'oggetto della scienza sono proprio queste idee. Che cosa sono le idee? Che cos'è un'idea? Ecco un'idea è un'entità perfetta, immutabile, autonoma, che vive in una realtà parallela alla nostra, al nostro mondo, non sono qua le idee. Le idee sono in un posto che Platone chiama iperuranio, come se fosse un pianeta a parte, staccato dal nostro mondo, dove all'interno ci sono delle idee che sono perfette, che sono immutabili, non cambiano nei secoli e soprattutto sono autonome. Bisogna distinguere tra idee e cose. Le idee sono i modelli perfetti, immutabili e autonomi che sono nell'iperuranio, mentre le cose sono delle repliche, sono delle copie delle idee che ci sono nell'iperuranio. Quindi noi abbiamo l'idea, adesso faccio un esempio molto semplice, giusto per capirci, abbiamo l'idea di cane che sta nell'iperuranio e nel mondo noi abbiamo delle cose, quindi degli animali canidi, quindi sono facente parte della specie dei cani e che sono delle copie dell'idea cane che sta nell'iperuranio. Lo stesso vale anche per idee un po' più complesse come l'idea di giustizia, l'idea di bene che adesso vediamo che è appunto l'idea suprema e le idee sono per l'appunto criterio di giudizio delle cose, perché noi dalle idee giudichiamo le cose che ci sono nel mondo e causa delle cose, perché se per esempio una cosa è bella, è bella a causa dell'idea di bellezza che sta direttamente nell'iperuranio. Quindi sono criterio di giudizio delle cose, io giudico le cose in base alle idee che ci sono nell'iperuranio e sono causa delle cose, perché le cose sono nate a causa delle idee. Ci sono poi tre caratteristiche delle idee cose, la mimesi, cioè le cose imitano le idee per l'appunto, la metessi, cioè le cose partecipano seppur in parte alla costituzione delle idee, cioè sono pensate... L'idea è proprio come se fosse una sfera perfetta di una determinata cosa e le cose che ci sono nel mondo sono un piccolo pezzettino del puzzle, di quella sfera. E quindi le cose partecipano in parte ovviamente alla costituzione delle idee e la parousia, cioè le idee sono presenti dentro le cose. Quindi è come se dentro ogni cosa che c'è nel nostro mondo ci fosse un piccolo nucleo interno che è proprio l'idea di quella cosa. L'idea di essere umano, l'idea di cane, l'idea di giustizia, l'idea di bene, eccetera. Noi come esseri umani, come entriamo in contatto con le idee? Allora innanzitutto dobbiamo partire dalla premessa che non possiamo entrare in contatto con i nostri cinque sensi, perché come diceva anche Parmenide, anche Platone, era dello stesso avviso, i cinque sensi sono fallaci, quindi non riusciamo ad entrare in contatto con qualcosa di così pure, così perfetto. Per cui Platone tira fuori dal suo cilindro la teoria della reminiscenza, dicendo che possono essere frutto di un processo mentale tale per cui noi troviamo l'idea che accomuna determinati oggetti. Attraverso che cosa? Attraverso la metempsicosi, che come dire era presente già nel pensiero di Pitagora, secondo cui il corpo una volta morto fa fuoriuscire l'anima e l'anima poi si reincarna in un altro corpo, quindi c'è una sorta di reincarnazione dell'anima che è immortale. Il secondo Platone, questo lo aggiunge rispetto al pensiero di Pitagora, il corpo muore, l'anima esce ma non va subito in un altro corpo, bensì va nell'iperuraneo e nell'iperuraneo entra a conoscenza delle idee, viene a conoscenza di quelle che sono le idee. Poi riscende nel mondo ed entra in un nuovo corpo, con il ricordo, seppure parziale, delle idee che ha conosciuto nell'iperuraneo. Quindi secondo Platone la conoscenza innata, ognuno di noi entra nel proprio corpo già con una base di conoscenza, una preconoscenza di quelle che sono le idee. Ci sono tre prove proprio legate all'immortalità dell'anima, la prova dei contrari, la prova della somiglianza e la prova della vitalità. La prova dei contrari si basa sempre sulla questione dei contrari, quindi che tutto si origina dal proprio contrario, l'abbiamo visto anche con altri filosofi come Eraclito, dove la morte origina dalla vita e la vita origina dalla morte. Poi c'è la prova della somiglianza. Anime e idee sono simili e semplici, non possono essere né create né distrutte, per cui l'anima è immortale, non può assolutamente né essere creata né essere distrutta. E poi la prova della vitalità, cioè l'anima partecipa all'idea di vita perché è un soffio vitale, per questo non può avere in sé l'idea della morte, che è l'idea opposta della vita. Cioè l'anima è immortale perché dentro di sé c'è proprio l'idea di vita. E questa idea di vita c'è a prescindere e non può avere in sé l'idea della morte. Vediamo anche come spiega questa immortalità, questo passaggio della metempsicosi, attraverso un destino. Cioè l'uomo è destinato e il destino dell'uomo è determinato proprio dall'anima, quando è nel mondo delle idee. Quindi ricapitolando, il corpo muore, l'anima sale al nelli per uranio e lì si sceglie il destino attraverso il contatto del mondo delle idee. E Platone, che utilizza moltissime metafore, moltissimi miti, usa il mito di Er. Er dopo una battaglia muore e dopo 12 giorni resuscita. e racconta che cosa le attende dopo la morte. Le anime devono scegliere il loro destino poco prima della reincarnazione, secondo il mito di Er. Quindi Er che cosa fa? Riesce in questi 12 giorni in cui muore, va nell'iperuraneo, conosce che cosa e qual è il nostro destino. Il nostro destino è quello che, una volta che l'anima è salita nell'iperuraneo e viene a conoscenza delle idee, sceglierà poco prima della reincarnazione il proprio destino. E l'anima sceglie il proprio destino in base anche alle esperienze pregresse, quindi in base a quello che è successo nella vita precedente. Questo è molto buddista, diciamo, come pensiero. E ancora tanti studiosi si domandano se ci sia stata una commissione, ma come del resto è stato anche con Pitagora, tra il pensiero buddista orientale e questo pensiero della metempsicosi. Che cos'è la filosofia quindi per Platone? Beh, per Platone la filosofia è la preparazione alla morte, che detto così fa un po' paura. In realtà è una preparazione alla morte perché? Perché la morte rappresenta questo distacco dal mondo delle cose per avvicinarsi al mondo delle idee. Perché? Perché noi non riusciremo mai ad arrivare verso l'iperuraneo quando siamo in vita, perché siamo vincolati dal nostro corpo, ma riusciremo a farlo nel momento in cui riusciremo a svincolarci dal corpo, quindi saremo morti, e riusciremo a salire. E la filosofia è l'unica disciplina che ci consente di avvicinarci nel mentre che siamo nel nostro corpo, nel mentre che siamo in vita, di avvicinarsi al mondo delle idee. Che cos'è il bene? Beh, il bene è la massima perfezione, cioè l'idea perfetta. Quindi sostanzialmente in una piramide gerarchica di idee, il bene è proprio la massima idea, la massima perfezione. E attenzione perché non coincide con Dio, secondo Platone. E tra l'altro le idee non si generano dal bene, perché sono immutabili ed eterne, quindi non c'è qualcosa, il bene non genera le altre idee, perché altrimenti dovremmo ripensare al fatto che le idee sono generate. In realtà le idee sono eterne ed immutabili, quindi non si generano, non si distruggono. Però esiste una gerarchia e in questa gerarchia il bene è la massima perfezione. Sempre in questo periodo Platone si occupa anche di amore e di bellezza attraverso il simposio e il fedro. Vediamo brevemente di cosa si occupa. Beh, allora, innanzitutto lui parla dell'amore in quanto figlio di povertà e figlio di abbondanza. Quindi l'amore è un tiro e molla tra quello che è la povertà da un lato e quella che è l'abbondanza. È sempre un tiro alla fune. Poi anche lui, come il suo maestro, parla del demone. Un demone che però nel suo caso è un metà uomo, metà divino, che vuole raggiungere la sapienza e per questo è filosofo. Infine vediamo proprio la bellezza che è strettamente collegata con la teoria delle idee, perché la bellezza è un'idea pura, è un'idea importante per Platone. Lui infatti distingue diversi gradi di bellezza a partire dalla bellezza pura, che è quella che sta nell'iperuraneo, è la massima, massimo grado di bellezza dove si trova l'amore filosofico. E questa bellezza svolge il ruolo di mediatore tra il mondo delle idee e l'uomo nel mondo delle cose. L'amore diventa quindi la risposta alla chiamata della bellezza. E in questo caso troviamo un altro mito che ho inserito qui nella mappa concettuale, ma in realtà può benissimo stare anche dall'altra parte, nella parte delle idee, perché è il mito della bigalata, uno dei miti, diciamo, più famosi di Platone che parla proprio di questa spinta verso la bellezza suprema, verso l'idea delle idee, per arrivare a quello ci vuole proprio un mito che racconta appunto di questa origa a cui vengono legati questi due cavalli, un cavallo bianco e un cavallo nero. Questi due cavalli rappresentano una spinta verso l'alto, quindi verso il mondo delle idee, che è quella del cavallo bianco, che spinge impetuosamente verso l'alto, verso l'iperuraneo, mentre invece c'è il cavallo nero che spinge verso il basso, il mondo delle cose, il materialismo, la materialità della vita concreta. E quindi c'è questa diatriba tra il cavallo bianco e il cavallo nero e le anime che vedono di più, quindi vuol dire che il cavallo bianco ha spinto maggiormente verso l'alto, avranno un'incarnazione in un uomo votato alla sapienza e all'amore, probabilmente un filosofo, mentre le anime che vedono di meno avranno un'incarnazione in un uomo lontano dalla verità e dalla bellezza. Questo mito è molto bello proprio perché ti indica questa spinta verso il mondo delle idee, verso l'iperuraneo, che però non sarà mai soddisfatta del tutto, perché noi non potremo mai arrivare all'iperuraneo fin tanto che saremo vincolati dal nostro corpo, che lo stesso Pitagora chiamava prigione dell'anima. Solo quando ci saremo liberati, quindi dopo la morte, ci saremo liberati dal corpo potremo finalmente dare input al cavallo bianco per arrivare finalmente all'iperuraneo. Dopo la bellezza pura troviamo altri gradi di bellezza, subito dopo la bellezza pura troviamo la bellezza delle scienze, che abbiamo già detto essere la base fondante del pensiero di Platone, entità immutabili, fondamentali, anche perché Platone basa tutta la sua filosofia sulla ragione, quindi una persona felice, una persona ragionevole che ragiona. E poi c'è la bellezza delle istituzioni e delle leggi, la bellezza dell'anima ed infine la bellezza del corpo. Benissimo, io ho terminato con questa mappa concettuale e ci vediamo nella prossima mappa concettuale, sempre su Platone.